buongiorno a tutte e tutti ragazze e ragazzi colleghe e colleghi con questo video vedremo come si esegue con excel un grafico a torta in 3d partendo dai dati sullo schermo prendiamo come riferimento una voce valore della produzione e alcune delle sottovoci appunto che vedete sotto la scritta valore delle produzioni la prima cosa che dobbiamo fare per la corretta creazione del grafico 3d è quello di selezionare correttamente le celle di nostro interesse quindi andremo a selezionare le celle da b4 fino a c9 faccio una piccola precisazione il grafico a torta si può utilizzare in quanto c'è soltanto una serie di dati avendo più serie di dati il grafico a torta non è utilizzabile una volta selezionate le celle di nostro interesse andiamo materialmente a generare questo grafico a torta in 3d quindi andiamo su in alto dove c'è scritto inserisci e vedete al centro in alto della schermata automaticamente vengono visualizzati dei grafici e troviamo anche il nostro grafico a torta clicchiamo sopra vedete abbiamo vari grafici hanno interesse a quello a torta 3d quindi ci clicchiamo sopra questo chiaramente è il grafico come viene visualizzato di default da excel possiamo giustamente andare anche cliccando in alto nella barra a personalizzarci il grafico ingrandendo il grafico tutte le voce all'interno del grafico vengono automaticamente ingrandite quindi vengono formattate quando io vado ad ingrandire il grafico in base alle nuove dimensioni cambiamo chiaramente il titolo del grafico ovvero scriviamo valore della produzione quindi basta cliccare sopra il nome titolo del grafico selezionate le parole titolo del grafico andate a scrivere valore della produzione non serve premere invio altrimenti vi da una capa basta cliccare da un'altra parte del grafico un'altra cosa che possiamo fare per rendere più carino il grafico è quello di creare una leggenda alla destra del grafico stesso quindi come facciamo andiamo su aggiungi elemento grafico su leggenda e clicchiamo per esempio su a destra in questo modo abbiamo un riscontro visivo anche dei colori che sono corrispondenti alle voci del grafico ecco adesso possiamo anche abbellire il nostro grafico abbellirlo cosa significa renderlo più leggibile quindi possiamo utilizzare o direttamente qua in alto gli esempi che ci vengono proposti adesso noi stiamo utilizzando vedete questo in evidenza ma nulla viate di provarne un altro o un altro ancora o un altro ancora insomma scegliere quelli che preferite si può addirittura usare anche il layout veloce se volete cambiare la visualizzazione proviamone uno qui sono spariti i valori in percentuale visivamente però possiamo anche reinserirli io direi che questo grafico è abbastanza carino per il nostro esercizio quindi andiamo a rimettere la leggenda sulla destra però andiamo su aggiungi elemento grafico leggenda a destra così l'abbiamo riportato come prima cerchiamo di abbellire poco poco questa parte del grafico perché effettivamente anche se vado a ingrandire il grafico le indicazioni risultano comunque poco leggibili allora proviamo ad andare su aggiungi elemento grafico etichette dati altre opzioni etichette dati si apre sulla destra questa schermata e qui potete modificarlo come meglio preferite per esempio se clicco sul nome della serie vedete come cambia la visualizzazione grafica nome della categoria fa vedere soltanto serie 1 con le percentuali quindi il nome della categoria lo lascerei il valore ovvero inserisce i dati numerici di quella cella in questo caso però non ci interessa visualizzare la percentuale abbiamo detto che ci interessa quindi la lasciamo chiave leggenda vi mette vedete di fianco alla vostra etichetta riporta il colore per praticità del dato nella leggenda possiamo anche lasciarlo possiamo anche se vogliamo spostare la descrizione dei nostri valori della produzione manualmente per renderli più leggibili ci clicchiamo sopra per esempio clicchiamo col mouse e lo trasciniamo da un'altra parte possiamo farlo anche con gli altri ecco sicuramente così il nostro grafico risulta più leggibile lo ingrandiamo bene così lo capiamo ancora meglio possiamo anche vedete se vogliamo separare dalla torta le varie fette come faccio premo sulla porzione più grande col mouse e tiro verso l'esterno vedete la tracciatura sotto mi dà l'indicazione di quello che succederà e in questo caso ho anche un'altra visualizzazione grafica direi che è abbastanza potete chiaramente dare vita al vostro estro e creare i grafici come meglio preferite e come meglio sembrano dare un colpo d'occhio migliore ricordo che il grafico a differenza dei dati numerici scritti nelle celle dà proprio una istantanea indicazione visiva di come sono distribuiti i dati ringrazio per la visione e buono studio a tutti grafici Grazie a tutti.